Si riapre tra mille dubbi, tanta confusione e timori reconditi che le decisioni di oggi possono essere ribaltate domani. O magari venerdì. Lunedì intanto è il giorno della riapertura in tutta Italia. Il 18 è la data cerchiata in rosso per i commercianti che potranno finalmente rialzare le saracinesche. Sì, ma come? E con quali sistemi di sicurezza per i clienti, per se stessi e per gli stessi dipendenti? Ne abbiamo parlato con Sabatino Senatore, titolare insieme ai figli del centralissimo Vogue a Piazza Malta a Salerno. Il responsabile CLAI, commercio e servizi provinciale, punta l'indice sul caos generato in questi giorni da chi avrebbe dovuto prendere decisioni e invece temporeggia creando solo tanta confusione tra i commercianti. Con tante incognite perché oggi è martedì. A ora non c'è nessun obbligo di non fare nulla, però stiamo partendo noi, ci stiamo attrezzando noi e come tanti altri colleghi a sanificare, a far ripitturare e basta, metteremo le mascherine, metteremo le visierine a tutti i collaboratori, ma proprio per far stare bene sì i nostri clienti, però l'assurdo è che noi oggi non sappiamo cosa fare domani e che non siamo gestiti noi bene perché noi vogliamo delle regole e che cosa fare? Punto. In questo momento non ci sta niente. Si sa che forse venerdì dovremmo saperlo, ma noi lunedì dobbiamo aprire. Speriamo che ci sia, speriamo che ci sia, però ormai qua ci aspettiamo tutto di più. Tanto ormai abbiamo capito che quello che fa la mano destra non lo sa la sinistra e noi siamo nel caos più totale. Meglio non quantificare perché se no non apriamo più, ma è costato tanto, ma la cosa più brutta dei nostri collaboratori sono due mesi e questa cassa integrazione non arriva, è una cosa mostruosa. Come non sono arrivati i benedetti aiuti che dice il governo nelle 600 euro? Le 600 euro non sono nemmeno arrivate. Cioè praticamente la piccola e media impresa è il cuore pulsante di questa nazione. È bloccata completamente e tutto si fa forché dare aiuti concreti. Sì, vedremo, faremo, facciamo, diciamo, vediamo, poi facciamo, ma quando? Arbitrariamente ci auguriamo che non si facciano delle cose scientifiche di questi professori, non facciano cose scientifiche impossibili per aprire lunedì, perché se no qua veramente mi sembra come se ci sia un disegno a uccidere la piccola e media impresa. Bravo, hai centrato. Un negozio che sta chiuso da due mesi e mezzo non ha bisogno di essere sanificato. Il problema che noi ci siamo posti, noi come azienda Vogue, è il 18 sera. Per me e a me il problema è per i miei collaboratori, per noi, per la nostra salute, è sanificare il negozio il 18 sera, come sarà il 19, il 20 e il 21. Ci stiamo attrezzando per sanificare il negozio tutte le sere, proprio per il bene dei nostri clienti e per il bene dei nostri collaboratori.